Askeri Academy è partner di YouSlow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa, con uno sguardo sul mondo e le earning di qualità, da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.askeri.academy. Buon ascolto. Buonasera a tutti di nuovo e grazie per la vostra partecipazione. Buonasera, stasera ci occupiamo appunto dei rapporti economici tra i congi nella crisi familiare, partendo appunto da una constatazione direi che è abbastanza evidente ma non così scontata, cioè la famiglia genera rapporti non solo personali ma anche economici e patrimoniali, forse anche in maniera più significativa e notevole di quanto magari nell'immediatezza possiamo constatare. In effetti i rapporti personali sono quelli diciamo che tutti conosciamo, incentrati proprio per la loro particolare caratterizzazione alla realizzazione di interessi superiori. Ai rapporti personali della famiglia sappiamo, si ricollega infatti, quella definizione di potere e dovere che è definita e qualificata come potestano, che sottende proprio l'attribuzione di un ruolo per appunto l'esercizio di interessi che trascendono anche il singolo individuo e che riguardano anche la sfera giuridica di altri soggetti. Pensiamo per esempio a quella che prima si chiamava la potestà genitoriale, oggi definita responsabilità genitoriale che coinvolge sia appunto la persona del genitore ma anche gli interessi e i diritti dei figli, almeno fin quando non abbiano raggiunto la maggior età. L'esistenza dei rapporti economici e patrimoniali all'interno della famiglia è dovuta essenzialmente al fatto che la famiglia ha anche degli aspetti indubbiamente di carattere economico che riguardano appunto l'adempimento dei doveri familiari e la contribuzione ai bisogni della famiglia. Sono quindi aspetti che necessariamente presuppongono la sussistenza di un patrimonio perché riguardano l'adempimento di specifici doveri di carattere anche economico. In effetti il dovere di contribuzione della famiglia appunto è chiaramente definito dall'articolo 143 del Codice Civile così come rimodulato secondo un principio di parità potremmo dire formale e sostanziale tra i coniugi all'indomani della riforma del 1975 e potremmo anche dire che la traduzione pratica del contributo ai bisogni della famiglia è stata realizzata dal legislatore della riforma del 1975 attraverso appunto quell'istituto che è la comunione legale dei beni attraverso il quale è previsto che gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio siano oggetto di comproprietà ad esclusione di quelli espressamente previsti dalla legge. Quindi c'è un principio diciamo di generale comproprietà se si applica la comunione dei beni che è il regime legale appunto ad eccezione appunto con degli aspetti che però costituiscono con eccezione alla regola generale e vorrei sottolineare anche il fatto appunto che trattandosi che l'aggettivo legale indica proprio una scelta precisa del legislatore di supplire a una volontà diversa dei coniugi che si attua per esempio attraverso la separazione dei beni o le convenzioni matrimoniali proprio per tradurre in pratica e in mancanza di un diverso accordo dei coniugi gli effetti dell'apporto che ciascuno dei coniugi dà ai bisogni della famiglia. Ecco è allora inevitabile che quando si verifica una crisi familiare necessariamente la crisi si riflette anche sugli aspetti economici e patrimoniali della famiglia e necessariamente venendo ad incidere anche sulla comunione dal punto di vista economico e patrimoniale che non ha più ragione d'essere nel momento in cui cessa quella che è la comunione spirituale, cioè la comunione di vite e di intenti tra le persone. E allora si pone innanzitutto il problema dello scioglimento del regime patrimoniale che la famiglia ha adottato durante il matrimonio perché io adesso parlerò molto spesso, forse secondo qualcuno troppo spesso del matrimonio, ma in realtà dovrei parlare alla luce degli interventi normativi più recenti anche di qualsiasi tipo di unione. Userò magari più spesso il sostantivo matrimonio per ragioni di carattere è significativo, ma certamente non vorrei trascurare altri aspetti che sono specificamente regolamentati dall'ordinamento. Il matrimonio si pone di più all'attenzione secondo me perché diciamo che avendo una connotazione che come dicevo prima trascende un po' gli interessi degli individui, sotto tanti aspetti non è stato poi così regolamentato dal punto di vista dell'autonomia dei coniugi, scusate, o comunque delle persone che hanno stretto un vincolo come magari è avvenuto per le unioni civili, dove gli aspetti patrimoniali sono maggiormente regolamentati. Anche per questo forse l'esame della crisi familiare dal punto di vista della separazione e del divorzio appare più interessante perché frutto di una continua evoluzione diciamo interpretativa che quindi è mutata nel corso del tempo e assunto anche aspetti sempre diversi tuttora direi in continua evoluzione. Ecco, sia la separazione che il divorzio comportano in pratica la cessazione quindi della comunione legale dei beni e il passaggio quindi alla comunione ordinaria. Ecco, sottolineo in pratica questo questo passaggio perché vorrei ricordare che anche se apparentemente diciamo le definizioni hanno una parte in comune cioè comunione ordinaria e comunione legale, in realtà gli effetti sono diversi perché durante la comunione legale noi sappiamo c'è una situazione di comproprietà che però è caratterizzata da una indisponibilità della singola quota di ciascun coniuge. La comunione è una nella sua interezza che appartiene diciamo per metà a ciascun coniuge ma non è individuabile la singola quota di proprietà dell'uno dell'altro. Il classico caso, dimostrazione di questo principio è quello che tante volte magari ci sarà capitato di vedere anche allorché viene espropriato un bene oggetto di comunione legale con un'esecuzione immobiliare per esempio, ecco ci accorgiamo appunto che l'esecuzione riguarda l'intero bene e non la quota del coniuge perché non è possibile individuare nella comunione legale una quota giuridicamente autonoma rispetto a quella dell'altro coniuge. Il passaggio invece dalla comunione ordinaria, come dice la parola stessa, comporta il fatto che abbiamo una comunione ordinaria cioè per quote, quindi rimane una situazione di contitolarità del bene ma all'interno di quel bene si possono individuare le quote reali del 50% dell'uno e dell'altro. Ecco, a conferma del fatto che la comunione dei beni si può leggere come la traduzione del legislatore dell'impegno comune di entrambi i coniuge a contribuire ai bisogni della famiglia si vede proprio nell'ambito di un principio di presunzione di comproprietà dei beni al momento dello scioglimento della comunione, nel senso che tanto nella comunione quanto nella separazione dei beni il legislatore ha previsto che in mancanza di capacità di provare la proprietà esclusiva di un bene questi si presumono in comproprietà per quote uguali. Quasi a significare quindi che laddove non ci sia un fatto contrario che dimostra quindi una circostanza diversa si presume che all'acquisto e alla formazione di quel bene abbiano contribuito entrambi i coniuge in uguali misure e quindi è giusto attribuirne il 50% ciascuno. Ecco, ora si è posto, dicevo, proprio perché la casistica è evidenziata sotto il profilo patrimoniale dei problemi che forse anche la tradizione giuridica non era pronta e forse non è pronta neanche oggi ad individuare, si sono posti dei problemi di individuazione del momento in cui determinati fenomeni si verificano. Il primo è stato proprio quello del momento in cui si verifica lo scioglimento della comunione dei beni, aspetto che certamente ha una sua importanza pratica perché il procedimento di separazione molto spesso non è un procedimento rapido, l'esperienza ci insegna che specie nella separazione giudiziale si va incontro a un vero e proprio giudizio civile ordinario che può durare quindi anche qualche anno, a differenza magari della separazione consensuale che si conclude con poco tempo, ma che comunque non è esente da un periodo temporale intermedio tra quando i coniugi decidono di separarsi e quando poi di fatto il diritto la separazione avviene. Quindi in questo spazio intermedio che può essere più o meno lungo si possono verificare dei rapporti giuridici che devono essere necessariamente qualificati. Pensate per esempio al caso in cui pendente il giudizio di separazione un coniuge eredita dall'altro un bene con una disposizione testamentaria che dice che quel bene deve essere oggetto di comunione, perché noi sappiamo che normalmente il bene ereditato non è oggetto di comunione, così come non lo è quello di donazione. Però può accadere anche che il disponente, sia esso appunto il testatore o il donante, decidano appunto una clausola espressa nell'atto di disposizione appunto di attribuire questo bene alla comunione. Ora il fatto che penda la separazione, come capiamo, genera necessariamente una difficoltà, cioè la creazione di una situazione di comunione nell'ambito di una situazione in cui la comunione spirituale sta venendo meno. Allora gli interpreti si erano interrogati a lungo, intendo la giurisprudenza anche, sulla decorrenza degli effetti della cessazione della comunione e ci sono state qui alterne pronunce. Si è detto cioè all'inizio che in pratica la cessazione doveva avvenire al momento in cui i coniugi comparivano davanti al Presidente del Tribunale per i provvedimenti provvisori e urgenti, che sarebbe stata anche diciamo la soluzione da seguire secondo un profilo anche così più logico e più immediato, perché ovviamente venuta meno la comunione spirituale di cui parlavo prima, non avrebbe più senso appunto mantenere una comunione dal punto di vista diciamo economico e patrimoniale. Però viceversa un'altra interpretazione che poi era quella più accreditata fino al 2015, aveva ritenuto poi alla fine che in realtà siccome la separazione sappiamo il mutamento di uno status, questo non si può ritenere raggiunto fino a quando, o il divorzio che siano, non si possono ritenere raggiunti fino a quando non si sia arrivati a una pronuncia definitiva. E quindi in pratica si riteneva che lo scioglimento della comunione non potesse che avvenire con il passaggio giudicato della sentenza appunto di separazione o di divorzio. Ecco, circostanze, cioè ragionamento indubbiamente corretto da un punto di vista giuridico, ma di fatto indubbiamente critico, perché appunto lasciava aperto il problema di cui parlavo prima, di un ampio barco temporale tra l'inizio del procedimento e la fine del procedimento. Quindi la gestione intermedia di rapporti caratterizzati da una comunione diciamo economico-patrimoniale senza più la comunione spirituale, quindi destinati generalmente a generare criticità. Ecco, questo dilemma è stato un po' risolto in maniera inequivoca dalla legge appunto numero 55 del 2015 che vedete indicata e la quale appunto ha modificato l'articolo 191 secondo coma del Codice Civile stabilendo appunto che la cessazione della comunione dei beni avviene appunto per la separazione giudiziale al momento in cui vengono emanati i provvedimenti temporanei urgenti del Presidente del Tribunale, quindi all'inizio del procedimento e nella separazione appunto consensuale quando c'è appunto la sottoscrizione dell'accordo per l'omologa della separazione stessa. Altro problema interpretativo che si era posto era quello diciamo speculare a quello che abbiamo visto adesso, cioè in caso di riconciliazione che cosa accadesse sul regino patrimoniale della famiglia, perché noi sappiamo che la separazione, a differenza magari del divorzio, però la separazione può cessare anche con un comportamento di fatto. I coniugi riprendono stabilmente la coabitazione e questo comporta la cessazione della separazione. Ecco, da un punto di vista personale possiamo dire nessun problema perché ovviamente si tratta di una sfera che riguarda essenzialmente le loro persone, ma da un punto di vista patrimoniale questo per loro e soprattutto per i terzi ha indubbiamente una certa rilevanza perché le terze persone che hanno interesse a vedere, a considerare i rapporti giuridici appunto che fanno capo ai coniugi hanno interesse anche a sapere se quei beni sono entrati in comunione e cioè appunto sono in proprietà comune dei coniugi o in proprietà esclusiva. Ecco allora che in pratica in un primo momento si era ritenuto che la riconciliazione appunto comportasse anche la ricostituzione di fatto del regime di comunione legale, però anche qui in pratica eravamo di fronte a una situazione di incertezza, soprattutto per la tutela dei rapporti giuridici nei confronti dei terzi, i quali appunto hanno diritto, come dicevo prima, a sapere effettivamente il regime giuridico cui un bene è soggettato. E anche questa lacuna diciamo è stata colmata da una disposizione normativa, quella che vedete appunto indicata, la quale ha stabilito praticamente che in caso di riconciliazione occorre annotare a margine l'atto di matrimonio la dichiarazione con la quale i coniugi manifestano la loro riconciliazione, in modo che con quella si intende ricostituito il precedente regime di comunione legale e quindi in pratica i terzi consultando l'atto di matrimonio possono sapere in pratica da quel momento in poi qual è il regime giuridico degli acquisti che essi hanno compiuto. Ecco, poi noi conosciamo indubbiamente con maggiore rilievo e anche con maggiore ricorrenza i problemi legati praticamente alla separazione e al divorzio in ordine ai diritti economici e patrimoniali che ciascuno dei coniugi ha per effetto della separazione o del divorzio. Entrambe queste situazioni di crisi matrimoniale generano infatti un diritto al contributo per per il mantenimento del soggetto, del coniuge più debole a carico, diremmo così, del coniuge economicamente più favorito, più avvantaggiato. Però bisogna considerare che c'è una differenza proprio, potremmo dire, ontologica tra questi due contributi che poi vedremo non è sempre stata così scontata, però in realtà per la definizione che ne è data dall'ordinamento il contributo appunto per il mantenimento del coniuge in corso di separazione è riferito appunto al tenore di vita durante il matrimonio secondo le condizioni del coniuge obbligato e si deve avere riguardo tutti gli elementi che vanno a costituire le condizioni del coniuge obbligato, quindi il reddito, il patrimonio, le condizioni di vita tenute durante il matrimonio. Questo perché l'obiettivo del contributo per il mantenimento è quello di assicurare al coniuge economicamente svantaggiato, diciamo così, una situazione, diciamo, di per quanto possibile di mantenimento del regime precedente. in questo spazio di tempo, ora peraltro anche molto più breve che in passato, che va dalla separazione al divorzio, per gestire cioè una transizione in cui il coniuge economicamente svantaggiato risenta il meno possibile sotto il profilo economico e patrimoniale della separazione stessa. Per il contributo per il mantenimento in sede di divorzio il discorso è più complesso perché nel 1987, voi sapete, è intervenuta appunto una parziale modifica della legge sul divorzio del 1970 e questa modifica tra l'altro ha ridefinito i contorni del contributo per il mantenimento attribuendogli, diciamo, una natura composita, quindi non più la natura esclusivamente assistenziale, ma una natura che oggi è definita dalla Corte di Cassazione assistenziale, perequativa e compensativa. In particolare l'articolo 5 della legge 898 del 70 come riformato dalla dalla legge numero 74 del 1987 ha previsto appunto che l'assegno sia commisurato a vari criteri, le condizioni dei coniuge, il contributo dato da ciascuno di essi alla vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno di essi e la durata del matrimonio. Solo come probabilmente vi sarà capitato anche di verificare nell'esperienza professionale o anche nell'esperienza di vita che ciascuno di noi ha anche per la conoscenza delle situazioni di altre persone che praticamente nella realtà poi anche l'assegno di divorzio ha assunto prevalentemente, diciamo, dagli anni 90 fino a pochi anni fa una natura prevalentemente assistenziale. In altre parole, cioè in pratica si è privilegiato sempre nell'ottica di una tutela del coniuge più debole l'aspetto assistenziale rispetto agli altri, così che si diceva in pratica che guardare alle condizioni dei coniuge significava prima di tutto guardare alle condizioni di vita che erano state tenute durante la vita matrimoniale e quindi in pratica se durante la vita matrimoniale si era avuto un tenore di vita alto, era su questo che bisognava comunque commisurare l'assegno di mantenimento. Tenendo presente che a differenza della separazione l'assegno di mantenimento è subordinato a un'altra condizione, cioè quella che il coniuge che ne fa richiesta, che quindi potenzialmente ne ha diritto, dimostri di non avere adeguati redditi propri e di non poterseli procurare per ragioni oggettive. Ecco, pensiamo al coniuge che ha dedicato magari la sua vita in parte o in tutto all'impegno familiare più che professionale e magari alla difficoltà che avrebbe anche magari in un'età più giovane l'inserimento nel mondo del lavoro. Una volta però verificato questo presupposto si riteneva appunto che comunque il criterio di riferimento fosse quello delle condizioni economiche dell'altro coniuge, al fine in pratica di assicurare anche in questo caso un tenore di vita uguale a quello avuto durante la vita matrimoniale. Questo criterio, vi dicevo, è rimasto in essere e è stato applicato dagli anni 90, quindi dall'indomani della riforma che è del 1987 fino a pochi anni fa, quando a un certo punto su, ricorderete, ne ha parlato molto anche la cronaca, la stampa eccetera, su ricorso di alcuni giudici di merito si è posto il problema di verificare se appunto questo criterio fosse effettivamente conforme alla legge e quindi la questione è stata rimessa alla Corte di Cassazione per valutare proprio la conformità di questo criterio ai dettami della legge. La Corte di Cassazione è ritornata, parliamo dell'anno 2015, mi sembra, è ritornata sulla questione, ecco, è affermando il principio che oggi vediamo anche ribadito in questa decisione del 28 febbraio 2020, numero 5605, e cioè che appunto l'assegno di divorzio differisce notevolmente, deve differire notevolmente da quello della separazione, perché ha una funzione diversa, che non è appunto, dice la stessa Corte di Cassazione, quella di fornire appunto esclusivamente natura assistenziale, perché in pratica, a differenza dell'assegno di separazione, sto leggendo proprio la massima della Corte di Cassazione, non c'è più la permanenza del vincolo coniugale, quindi non deve più sussistere la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che come dicevo prima è stato fino al 2015 il criterio pressoché esclusivo di riferimento. Al contrario appunto tale parametro, dice la Corte di Cassazione, non rileva in sé il punto di fissazione dell'assegno divorzio, che deve essere invece quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati appunto dall'articolo 5 della legge 890 del 1978, perché appunto è porto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, che non c'è più appunto sottolinea la Cassazione, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex conioce beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex conioci. Ecco, un altro problema che si è posto poi nel momento dell'indomani anche del divorzio, allorché praticamente ci sia comunque una statuizione che prevede il diritto al mantenimento, si è posto il problema di vedere la durata di questo contributo. Voi sapete che oggi questa questione è ancora molto aperta, ci sono proposte di legge che addirittura prevedono, vorrebbero una limitazione temporale al diritto al contributo per il mantenimento, cioè viceversa un principio di solidarietà che è quello che anima ancora fortemente le disposizioni in materia di contributo al mantenimento, secondo le quali appunto proprio perché si tratta di un principio di solidarietà non può essere temporalmente limitato, ma deve sussistere fino a quando appunto ce ne sia il bisogno, perché questo significa appunto la solidarietà. E allora ci si è chiesti ripetutamente quando, in quali circostanze, possa venire meno il diritto al contributo, perché c'è quella, va bene, tipica, cioè prevista espressamente dalla legge del passaggio a nuove nozze, però ci sono dei casi specialmente incrementati nel corso del tempo, quando in pratica alla famiglia, diciamo, di diritto si è equiparata sempre di più la famiglia, anche in Italia, di un'unione di fatto, di vedere che rilevanza avesse il vincolo di fatto anche sotto questo profilo. Sappiamo infatti che la costituzione di un vincolo di fatto ha assunto varie connotazioni, anche se praticamente il riconoscimento di un'unione di fatto ha tardato a venire, ancora oggi il riconoscimento è possiamo dire parziale, però pensiamo per esempio all'esarcimento danni per la morte del convidente o alle altre fatti specie, in cui comunque una situazione di fatto ha assunto comunque per certi aspetti una rilevanza giuridica. Ci si è chiesti allora che rilevanza potesse avere una relazione di fatto anche dal punto di vista della cessazione dell'obbligo contributivo del coniglio obbligato. Anche qui in pratica la Corte di Cassazione ha indicato un criterio abbastanza preciso e potremmo dire anche ben delineato, nel senso che si è arrivati a dire che il diritto al contributo viene meno. Tutte le volte in cui due persone pongano in essere un nuovo progetto di vita caratterizzato da una stabilità ancorché di fatto, tale praticamente da far individuare il perseguimento di interessi comuni e un progetto di vita comune. Questo significa quindi che da una parte è rilevante la mera coabitazione, però dall'altra ci devono essere dei sintomi, ovviamente degli aspetti evidentemente anche indiziari che portano praticamente oltre certo che alla coabitazione anche a far vedere in pratica che si è realizzato tra due persone un nuovo progetto di vita sul quale appunto esse contano e al quale stabilmente fanno riferimento. La fattispecie esaminata appunto dalla Cassazione in questa sentenza che vedete indicata fa riferimento al caso appunto in cui tra due persone si era generata appunto una convivenza stabile nell'ambito della quale appunto si trascorrevano insieme anche periodi di tutti i periodi di vacanza, c'era uno stabile anche inserimento del convivente nell'attività economica dell'altro con la percezione anche di fatto di una parte di utili e questo ha comportato la costruzione di un insieme di elementi dai quali desumere proprio il progetto, il nuovo progetto di vita comune di cui parla la Corte di Cassazione e che è rilevante ai fini dell'esclusione appunto della cessazione cioè di questo vincolo di solidarietà che fa riferimento al vecchio vincolo familiare proprio perché la costituzione di un nuovo progetto di vita ritenuto la Corte di Cassazione è idoneo evidentemente ad assicurare anche la realizzazione di quella stabilità economica che la solidarietà post-matrimoniale intende comunque assicurare attraverso il contributo del divorzio, della separazione del divorzio. Ora io vorrei entrare nella parte un po' più delicata diciamo del discorso della crisi economica dei coniugi perché mi piacerebbe trattare il problema che da tanti anni riguarda il nostro ordinamento ma non solo, vedremo il nostro ordinamento, dei limiti tra l'autonomia privata dei coniugi nella gestione dei loro rapporti economici e patrimoniali e l'intervento giudiziale nella gestione di questi rapporti perché si tratta di una situazione di tensione perché come dicevo all'inizio la famiglia è regolata anche dalla realizzazione di interessi superiori interessi superiori che sono collegati anche ad aspetti economici e patrimoniali pensate per esempio al mantenimento dei figli finché non abbiano raggiunto la loro indipendenza economica indubbiamente si tratta di aspetti rispetto ai quali, specialmente se parliamo di figli minorenni l'autonomia privata incontra necessariamente dei limiti perché non è possibile ipotizzare una rinuncia a questo tipo di sostegno. E allora ci si chiede da tanti anni che ruolo abbia l'autonomia dei coniugi nella separazione nel divorzio, l'autonomia negoziale, la possibilità cioè di gestire concordemente i loro rapporti e pervenire quindi a una loro regolamentazione. Ecco diciamo che l'orientamento iniziale della nostra giurisprudenza è stato estremamente negativo perché si diceva appunto che la caratterizzazione di questi rapporti come rapporti sovraordinati in certo qual modo alla volontà dei singoli non consentisse un intervento dell'autonomia privata e quindi in pratica gli accordi, e quindi questo si traduceva in una nullità degli accordi patrimoniali nella separazione e nel divorzio per appunto la illicità della causa cioè perché in pratica l'accordo era contrario alle norme di legge secondo le quali, o meglio un principio sovrastante proprio al diritto di famiglia secondo il quale i rapporti economici e patrimoniali della famiglia non possono essere, travalicano l'interesse dei singoli e quindi non possono essere riferiti esclusivamente all'autonomia privata. E a conferma di questa indicazione si rilevava il fatto che nelle controversie che riguardano appunto il diritto di famiglia è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero cioè di quella figura giudica che è chiamata proprio a tutelare e gli interessi praticamente che trascendono i singoli individui. E allora alla luce di questo c'è stata una soluzione negativa soluzione negativa che potremmo dire si è un po' inclinata nel momento in cui comunque la legge sul divorzio ha dato la possibilità di distaccarsi dal criterio standard del contributo per il mantenimento fissato nell'erogazione di una somma periodica e ha dato per esempio la possibilità di scegliere ecco, è entrata in gioco quindi l'autonomia privata di scegliere l'avventimento dell'obbligo di mantenimento in un'unica soluzione. A questo criterio poi se ne è affiancato anche un altro cioè quello di valutare la possibilità alla quale la Corte di Cassazione in un primo momento aveva risposto negativamente ma oggi risponde positivamente di soddisfare l'obbligo di mantenimento attraverso praticamente il trasferimento di un bene immobile e quindi attraverso la percezione dei frutti che da questo immobile possono derivare. Ecco, è bene considerare in pratica che l'avventimento dell'obbligo di mantenimento è un'unica soluzione aperta per così dire una breccia rispetto al comportamento negativo che aveva appunto la nostra giurisprudenza sugli accordi tra i conici in serie di separazione e di divorzio perché la stessa norma ha previsto poi che qualora l'erogazione avvenga in questo modo non è più possibile scegliere un'unica formulare richieste di carattere economico e allora è stata in certo qual modo la legge che ha detto c'è un modo in cui i conici possono accordarsi liberamente e che in qualche modo deroga a quello che normalmente è previsto e si è aperta in questo modo quindi una strada verso un maggiore spazio per l'autonomia privata stesso spazio appunto che poi si è aperto quando si è pensato al trasferimento di un bene immobile a soddisfacimento appunto del contributo per il mantenimento ritenuto, vi dicevo, da prima valido ma poi ritenuto e invalido ma poi valido perché si è ritenuto praticamente che un accordo di questo tipo sia meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico in quanto ecco l'ottica in cui guardare gli accordi della separazione non è più l'ottica di una impossibilità completa di gestione di questi rapporti da parte degli interessati ma ha invece la possibilità di intervenire autonomamente in questi rapporti lasciando al giudice dice la Corte di Cassazione un controllo soltanto esterno che quindi fa salva l'autonomia privata che in un primo momento era completamente negata Ecco, sul problema in particolare dei trasferimenti immobiliari vorrei un attimo soffermarmi La nostra esperienza ci insegna che è molto frequente il caso in cui in sede di accordi di separazione o di divorzio si vogliano prevedere anche dei trasferimenti immobiliari perché questi trasferimenti possono avere la funzione o appunto compensativa dell'assegno di mantenimento o anche di visione contestuale del patrimonio Dicevamo infatti all'inizio che nel momento in cui cessa la comunione spirituale l'esperienza ci insegna che è altrettanto evidente la necessità quanto più immediata possibile di cessare anche la comunione economica e patrimoniale e quindi si avverte l'esigenza di poter regolare all'interno di quello stesso schema che regola rapporti personali e anche quelli patrimoniali E quindi ci si è interrogati anche su questo a lungo sulla possibilità cioè di poter stabilire nell'ambito del decreto di poter inserire nell'ambito del decreto di omologa della sentenza del decreto di omologa di separazione della sentenza di divorzio il trasferimento immobiliare anche perché cosa non di poco conto c'è un notevole risparmio economico in termini di risparmio appunto della stipulazione dell'atto di trasferimento e quindi della non necessità di ricorrere appunto a un professionista appositamente per questo e anche praticamente della riduzione delle imposte di registro e di bolli perché la materia del divorzio come sapete è praticamente esente da imposte e bolli e quindi un trasferimento contenuto nella sentenza di divorzio è notevolmente agevolato sotto il profilo anche fiscale e allora in questo caso si scontrano anche qui due situazioni contrapposte l'autonomia negoziale prevista dall'articolo 1322 del codice civile che secondo quella stessa norma è applicabile comunque in un ambito più ampio della sola sfera contrattuale e diciamo potremmo dire alla pressoché totale attività giuridica di un soggetto e dall'altra parte però la legittimità dell'inserimento di una disposizione di questo tipo all'interno di un provvedimento destinato ad avere anche altre funzioni questo primo scoglio è stato superato pacificamente per cui diciamo che si è ritenuto da un certo punto in poi ricorderei diciamo dagli anni 90 in poi si è ritenuto pacificamente che questi provvedimenti potessero contenere anche atti di trasferimento sebbene ci fosse stata ecco anche l'opposizione praticamente dei notai che vedevano questa maniera il rituale di trasferimento della proprietà però il problema si è riproposto recentemente vorrei dire dal 2010 in poi quando in pratica sono stati previsti per i trasferimenti immobiliari alcuni accertamenti specifici che oggi ci si chiede se siano compito esclusivo di un notaio oppure no in particolare nel 2010 è stato introdotto il comma 1 bis all'articolo 29 della legge 52 del 85 per effetto del quale al momento del trasferimento bisogna compiere specifici accertamenti ipocatastali e cioè bisogna fare riferimento alle prevenimenti catastali e dichiarare che appunto lo stato di luoghi è conforme alle stesse questo riferimento è previsto appena di nullità però è anche vero che la legge stabilisce che questa dichiarazione di conformità può essere fatta anche da un tecnico e non prevede appena di nullità la necessità di ricorrere appunto ad un notaio allora ci si è chiesti ma effettivamente allorché il trasferimento ecco avvenga in sede di separazione e di divorzio è possibile oppure è negata questa possibilità dal fatto che l'attività che oggi la legge prevede di controllo diciamo così della conformità degli immobili e quindi di verifica di corrispondenza tra stato di fatto e stato di diritto di un immobile è rimessa soltanto al notaio e quindi è solo a lui che si deve fare riferimento per poter effettuare un trasferimento di proprietà e quindi magari nell'atto si può dire soltanto nell'atto di separazione di divorzio si può dire soltanto che si prende l'impegno di trasferire ma non si può compiere il proprio trasferimento che andrà fatto comunque dal notaio ecco la questione diciamo è tuttora aperta perché recentemente in seguito al ricorso proposto da due coniugi che avevano stabilito in sede di divorzio congiunto il trasferimento tra loro della proprietà di un immobile e la corte di appello d'Ancona ha escluso praticamente la possibilità questa possibilità e in seguito al ricorso in Cassazione da loro proposto la corte di Cassazione ha ritenuto la necessità appunto di sottoporre la questione alle sezioni unite della corte di Cassazione stessa perché ci sono evidentemente implicazioni di notevole rilevanze perché in questo aspetto si contrappongono si contrappongono istanze diciamo di segno contrario che devono essere devono avere un'interpretazione uniforme le istanze che possono portare a una atteggiamento favorevole dell'atto dispositivo sarebbero appunto quell'ecco dell'autonomia negoziale della possibilità appunto di ricorrere anche a un tecnico per far accertare la conformità della situazione dello stato di luogo e le palimetrie catastali d'altra parte invece si porrebbero a svantaggio del trasferimento in serie di separazione del divorzio le necessità diciamo di specifici controlli che sono demandati appunto dalla legge al notaglio ma che però a differenza del diciamo dell'allegazione della documentazione non sono previsti appena di nullità cioè quindi la loro mancanza ovvero il fatto che non si ricorra al notaglio non è previsto appena di nullità e questo lascerebbe pensare che comunque ci sia uno spazio per l'autonomia privata comunque ecco la questione come si dice appunto ancora aperta quello che infine vorrei sottoporre all'attenzione è però anche la possibilità di individuare uno spazio di diciamo di accordo sulle condizioni economiche e patrimoniali della crisi della crisi matrimoniale prima ancora che la crisi si generi e prima ancora addirittura che nasca il vincolo il vincolo matrimoniale perché questa è ancora una questione potremmo dire così ancora più più delicata per il nostro ordinamento perché se come abbiamo visto si è fatto tanto fatica ad ammettere una regolamentazione nel momento in cui si parla di patti all'interno di una separazione o di un divorzio già aperti già pendenti ecco immaginate quanta difficoltà si sia fatta per arrivare a dire che addirittura sia possibile e si faccia ancora per arrivare a dire che sia possibile un accordo preventivo sulle condizioni economiche e patrimoniali di un'eventuale separazione o di un'eventuale divorzia ecco bisognerebbe constatare con una frase un po' così diciamo d'effetto che il nostro ordinamento sotto questo aspetto è un po' indietro rispetto alla normativa prima di tutto la normativa europea perché in pratica la normativa europea già da alcuni anni praticamente ha emesso delle disposizioni dei regolamenti in base ai quali praticamente è pressoché evidente un l'ammissibilità ecco di patti prenuziali in vista del divorzio da stipulare addirittura anche prima del matrimonio e quindi la possibilità di accordi ecco tra futuri partner in patruzione preventiva degli effetti prematrimoniali in particolare poi è importante considerare che l'articolo 8 del protocollo dell'AIA del 2007 quindi parliamo già di vari anni anni fa prevede praticamente che le parti possano disegnare come un accordo la legge applicabile al loro rapporto mediante un'intesa che può essere conclusa testualmente in qualsiasi momento e questa intesa se ha la forma prevista praticamente equiparabile cioè al nostro atto pubblico al nostro atto notarile deve essere riconosciuto in ogni stato questo ha creato indubbiamente una criticità per gli ordinamenti interni perché in pratica mettere la possibilità di creare con una legge esterna un patto che poi deve essere recepito dallo stato membro ecco porta necessariamente ciascun singolo stato a interrogarsi sull'ammissibilità anche al suo interno di questi patti allora così brevemente vorrei sottoporvi quali sono le possibili soluzioni che i principali ordinamenti hanno adottato ecco l'ordinamento francese che è quello diciamo più simile a noi perché ricordiamo tutti che il nostro ordinamento civile deriva appunto dal codice napoleonico francese prevede è ancora molto rigido possiamo dire quindi ha una rigidità simile a quella che poi vedremo è caratterizzare il nostro ordinamento prevede dell'ammissibilità della rinuncia a una prestazione di compensazione diciamo che potremmo definire ecco il nostro assegno di divorzio da corrispondere in unica soluzione o periodicamente soltanto però secondo l'ordinamento pubblico internazionale quindi se questa disposizione viene diciamo dall'esterno l'ordinamento francese la recepisce altrimenti all'interno al proprio interno non è prevista però è anche da dire che l'ordinamento francese prevede a differenza del nostro ordinamento una predeterminazione delle conseguenze patrimoniali dello scioglimento del ricegimento patrimoniale in caso di divorzio la cosiddetta clausola alzaziana prevede anche la possibilità di regolare la comunione di beni nel contratto appunto di matrimonio anche in vista della separazione cosa che da noi non è possibile allargando poi il nostro orizzonte andiamo a vedere negli Stati Uniti sappiamo tutti anche per la cronaca che riguarda più o meno personaggi del mondo dello spettacolo eccetera che indubbiamente c'è una missione generale negli Stati Uniti dei patti appunto preunziali in vista del divorzio più complessa ecco la storia della Gran Bretagna perché la Gran Bretagna originariamente ha negato e parlo diciamo di una storia che è durata fino al diciannovesimo inizi del ventesimo secolo una appunto un'efficacia dei dei patti appunto prematrimoniali sulla sulla base di principi tutto sommato non dissimili dai nostri cioè della rilevanza di interessi generali che trascendono appunto i singoli che quindi non consentono di dare spazio potremmo dire all'autonomia a quella che noi definiamo l'autonomia privata dal 2008 però c'è stato il superamento grazie anche all'importazione di patti stipulati tra cittadini di altri stati europei dei limiti di riconoscimento dei patti prematrimoniali stabilendo delle linee guida per comunque la loro rimodulazione nel caso di una manifesta iniquità e cioè prelevendo un intervento del giudice rispetto a un spilio eccessivo del patto all'entità quindi delle rinunce al contributo fornito durante e riguardo anche al contributo fornito durante la vita matrimoniale l'esperienza della Germania ci insegna invece che c'è una consolidata possibilità di predeterminare gli effetti del possibile divorzio e ora ecco guardando l'esperienza italiana troviamo anche qui un'evoluzione abbastanza significativa ma non del tutto compiuta nel senso che in pratica in Italia gli accordi prematrimoniali sono stati guardati per molti anni con appunto diffidenza al punto di arrivare a una affermazione di nullità per contrasto con l'ordine pubblico interno ecco ho indicato questa sentenza del 1981 che è un po' il riferimento di questo l'illicità della causa di cui parlavo prima perché appunto si tratta di accordi che vanno a toccare la sfera della intangibilità degli interessi superiori sottostanti appunto ai rapporti familiari e quindi come tali non disponibili diciamo da parte degli interessati non nella totale quantomeno disponibilità degli interessati un solo varco si è aperto laddove si è ammessa appunto la possibilità per i matrimoni celebrati all'estero tra cittadini stranieri allora in questo caso l'assoggettamento diciamo a disposizioni esterne ha comportato la necessità comunque di ammettere appunto questi patti che facessero riferimento a disposizioni di altri stati e riguardassero comunque cittadini stranieri nel 2012 ecco registriamo un mutamento di tendenza perché la corte di cassazione ha ritenuto la validità dell'accordo sull'indemnizzo per il caso di fallimento del matrimonio in particolare è stato ammesso con questa sentenza il fatto che la moglie si riobbligasse in caso di fallimento del matrimonio a restituire al coniuge le somme erogate per l'acquisto di un immobile e questo è quasi fa quasi questa decisione fa quasi da riflesso alla nota questione proprio che si è posta molto all'attenzione della giurisprudenza sul fatto sulla sorte che poi abbia un immobile diciamo acquistato o ampliato durante il matrimonio in comunione dei beni dai coniuci con i mezzi di entrambi da coniuci in comunione di beni con i mezzi di entrambi quando però il bene immobile era intestato formalmente soltanto uno solo di essi come ricorderete questo è stato frutto di un contenzioso piuttosto anche di un'interpretazione che ha visto contrapposti i giudici di merito più favorevoli alla comunione legale quindi una situazione di comproprietà di comunione e invece la corte di cassazione che alla fine con un intervento proprio delle sezioni ha invece ritenuto la proprietà esclusiva del bene e un diritto soltanto al coniuci di essere appunto indennizzato delle somme apportate per la costruzione o l'ampliamento dell'edificio ecco quindi notiamo un'apertura del nostro ordinamento dicevo non ancora compiuta perché in realtà questo non significa un generale riconoscimento dei patti prematrimoniali sui quali praticamente ad oggi possiamo soltanto così individuare qualche proposta di legge io ho individuato quella più recente anche quella più significativa che è destinata a introdurre alcune nuove norme nel codice civile e in particolare l'articolo 162 bis che prevederebbe proprio la disciplina del contenuto della forma degli accordi prematrimoniali sulla regolamentazione dell'eventuale separazione o sul sul divorzio gli aspetti più significativi di questa di questa riforma sarebbero appunto l'introduzione quindi di un negozio da stipulare appena di nullità in forma di atto pubblico o come convenzione di negoziazione assistita ecco la forma parlate bene non può che essere questa perché è la stessa forma che la legge già prevede obbligatoriamente appena di nullità per le convenzioni matrimoniali all'articolo 162 del codice civile e l'oggetto di questo accordo ecco potrebbero essere potrebbe svilupparsi secondo queste tre direzioni cioè l'accordo su una somma di denaro periodica prevederminata ovvero su una somma una tantum o sul trasferimento immobiliare per il mantenimento dell'altro congine e o della prole quindi il recepimento di accordi che abbiamo visto in qualche modo ormai essere ammessi nella casistica attuale con la differenza in pratica che questi sarebbero accordi preventivi rispetto appunto a quelli che invece oggi sono ammessi nel corso del procedimento di separazione o di divorzio poi un patto sulle prestazioni patrimoniali in conseguenza della cessazione quindi del matrimonio e la possibilità di rinuncio al mantenimento salvo il diritto agli alimenti e quindi in pratica la cessazione quindi di questa di questo principio di solidarietà familiare che è sotteso abbiamo visto al contributo per il mantenimento anche dopo il divorzio salvo ovviamente ecco la tutela di quello stato di bisogno per il quale il nostro ordinamento già presta il diritto agli alimenti cioè ad avere ciò che serve appunto per il proprio sostentamento ecco io così con questo ecco con questo incontro ho voluto riassumere anche se a grandi linee appunto le principali criticità sottese alla crisi economica della famiglia dal punto di vista economico e patrimoniale ovviamente ho toccato soltanto alcuni aspetti perché mi sembravano appunto un po' ecco a macchia come vediamo in questa immagine perché mi sembravano quelli diciamo sui quali il dibattito è particolarmente intenso e quindi più interessante e ho cercato anche un po' ecco di dare l'idea che effettivamente al di là magari di quello che può sembrare soprattutto a chi si avvicina per la prima volta gli studi di diritto è la famiglia una complessità economica e patrimoniale non indifferente che tante volte magari almeno ecco un primo impatto può sembrare può passare inosservato comunque restare meno attenzione di quanto poi ecco la casistica stessa oggi anche quindi l'attenzione del legislatore ci fanno vedere Ascari Academy è partner di Uslo Web Radio per una formazione comoda indipendente e completa con uno sguardo sul mondo e le earning di qualità da oggi anche sulla tua radio maggiori informazioni su www.askari.academy buon ascolto